Il giovedì di ieri è davvero da considerarsi nero. Infatti, dei 3.334 positivi scontrati in regione Campania, con 23.496 tamponi processati, ci sono stati 572 casi nel Salernitano, in sole 24 ore. Questa è da considerarsi la cifra più alta dall'inizio dell'emergenza del Covid-19, ma altro dato è quello dei decessi, che giunge a 15. Altro numero molto alto e preoccupante. Infatti, da questo punto di vista, la giornata di ieri ha purtroppo fatto registrare tanti decessi. Critica la situazione nelle case di riabilitazione e nelle residenze sanitarie assistite. Difatti, nel pomeriggio di ieri è stata appurata la quarta vittima ad Eboli, un 74enne di Cassel San Giorgio, in cura nel centro di riabilitazione Elion. A Eboli, il compoto totale dei cittadini che hanno perso la vita è salito a 9. Ed ancora, a Bonapitacolo, nella casa di riposo, al sacro cuore di Gesù, ha perso la vita un 83enne, facendo salire a 4 i decessi complessivi. A Scafati e allo Scarlato, 5 pazienti positivi al coronavirus sono deceduti. All'Umberto I, di Nocera Inferiore, si conta un nuovo decesso per Covid-19. Altre tre vittime a Sarno, una di queste un 83enne, è morta in ambulanza nel tragitto da Sarno al Covid-Ospital di Scafati. Altro lutto a Ponte Cagnano Faiano, dove ha perso la vita un imprenditore agricolo di 55 anni, residente in località Picciola e ricoverato Aldaprocita. Aveva anche patologie pregresse. Al civile di Acropoli, purtroppo sempre per il coronavirus, hanno perso la vita una 75enne di Ascea ed un 84enne di Castel San Lorenzo. Da registrare anche la scomparsa a Francoforte di un cittadino di Albanella, Alvaro Maraio, noto cuoco, che commercializzava i prodotti serenitani in Germania.